All'allenamento del Pergo siamo con Kevin Zopardi, un giocatore maltese che ha fatto un gemellaggio con i tifosi del Pergo. Come è nata questa situazione? Questa situazione è nata due o tre anni fa, quando con la scuola che attendevo abbiamo fatto lo scambio con il Piacioli, conoscevo anche Brian Casali, da là siamo rimasti amici, lui è abbastanza tifoso del Pergo, mi ha fatto conoscere la squadra, la seguo su Facebook e anche a volte su internet. E poi, siccome gioco anche io con una squadra maltese, mi è venuta questa idea di fare questo scambio, gemellaggio col Pergo, da là siamo arrivati qua. Che squadra è la tua? È nata da poco? Parlacene un po'. Io gioco nella squadra Tajbish, che è nata nel 2012, militiamo nella categoria più bassa perché è da là che cominciano le nuove squadre. A Malta abbiamo quattro divisioni, la Premier, poi la prima, la seconda e la terza, noi siamo nella terza. E da due anni che siamo fondati, stiamo combattendo per fare la promozione, abbiamo unito una bella squadrona, che speriamo che faremo meglio anche quest'anno. Invece tu che ruolo giochi e diciamo che i giocatori del Pergo conosci o che cosa sai della storia del Pergo? Io come ruolo faccio il centrocampista, allora un po' della palla ne vedo. Poi del Pergo provo a seguire dei giocatori, proprio proprio non ne conosco così tanto, ma seguo anche i risultati. Spero anche che quest'anno potrò seguire anche di più.